Il secondo anno consecutivo la cerimonia ufficiale per celebrare il 2 giugno a Torino non si è svolta in piazza Castello a causa delle restrizioni anti-covid ma alla caserma Montegrappa in corso 4 novembre dove c'è stato un sobrio alza bandiera seguito dai discorsi delle autorità. Ci mancano i cittadini, ci mancano perché in tanti partecipavano dando anche valore a questo momento. Ho chiuso questo breve intervento dandoci appuntamento il prossimo anno in piazza perché sono convinta che il prossimo anno finalmente potremo tornare in piazza. Per superare questa difficile fase, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio, occorre un impegno collettivo per il rilancio. Parole riprese dal prefetto. L'ha detto il Presidente, fare rete è fondamentale, superare qualsiasi individualismo o comunque divisione anche di tipo politico per affrontare questo momento. avremo le risorse e dobbiamo gestirle al meglio.